buongiorno e benvenuti in questo video scusate mi aspetto ma mi sono appena svegliata adesso mi bevo il mio caffè e vado a lavoro comunque vi volevo dire c'è un aggiornamento sulla casa allora no io la proposta di acquisto l'ho già fatta me l'hanno accettata adesso devo aspettare solo metà mangio più o meno verso i 10 così insomma ora non mi ricordo di preciso quando sono tornata è già sera infatti guardate è già buio comunque ho rimesso gli occhiali dopo un bel po che non li mettevo comunque poi oggi pomeriggio non ho potuto finito di finire di bloccare perché sono stata fuori con mia mamma abbiamo dovuto fare delle compere vi volevo far vedere che cosa mi aveva comprato da mettere poi in casa nella casa nuova grazie a tutti